Buongiorno, ben trovati. Appuntamento con Mattino 6 di giovedì 11 febbraio, apriamo con il Santo del Giorno, in questo caso la Santa che viene ricordata dalla Chiesa Cattolica, parliamo della Beata Vergine Maria di Lourdes. In un secolo tutto incredulità, in una nazione pervasa di ateismo, qual era la Francia nel XIX secolo, Maria si proclama immacolata e inizia una serie di miracoli che sono la più eloquente apologia del soprannaturale. Era l'alba dell'11 febbraio del 1858 e Bernadetta, una giovane del posto, si era recata in prossimità della grotta di Massabielle sulle sponde del torrente Gave. Su una rupe di questa grotta la Madonna apparve, bianco vestita, con il capo coperto di un velo scendente sulle spalle, i fianchi cinti di una fascia azzurra, i piedi nudi baciati da rose olezzanti, un volto celestiale. Era la più bella fra tutte le donne. Nella prima apparizione la Madonna insegnò alla Pia Fanciulla a far bene il segno di croce, a recitare il rosario. Ed ella stessa per prima prese la corona che aveva penzoloni al braccio e cominciò il secondo giorno. Bernadetta, temendo un inganno del demonio, gettò acqua santa in direzione della signora, ma questa le sorrise con il volto ancora più benigno. Il terzo giorno le ordinò di ritornare alla grotta altre 15 volte, dopo le quali si manifestò dicendo Io sono l'Immacolata Concezione. Intanto avvenivano anche i miracoli e la fama delle apparizioni si estendeva per tutta la Francia e anche all'estero, destando un concorso straordinario di devoti e curiosi per accertarsi che Bernadetta non fosse una visionaria o malata di mente, si ebbero più sopralluoghi da parte dell'autorità ecclesiastica e di quella civile. I medici constatarono la normalità e la sincerità della fanciulla e la Madonna provava la verità dell'apparizione con i miracoli. In breve tempo i numerosissimi devoti edificarono una chiesa che fu dai sommi pontefici arricchita di titoli e privilegi. L'acqua scaturita nell'interno della grotta continua anche ai nostri giorni ad operare prodigi. In questa vengono immersi gli ammalati e molti vengono miracolosamente sanati. Dunque il ricordo della Vergine Maria di Lourdes nella giornata di oggi, appunto, dell'11 febbraio. Noi lasciamo il santo del giorno, andiamo a vedere insieme, lo faremo tra qualche istante, ovviamente i titoli dei nostri giornali, partendo dal quotidiano Il Centro per andare a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara del quotidiano d'Abruzzo. Poi andremo avanti anche con, vedremo le prime pagine, scusate, anche delle altre edizioni. Allora partiamo dall'edizione di Pescara del Centro, eccola qui, si parla di sanità, in questo caso De Nicola ora scatta il fallimento. Vedete il titolo in primo piano, debiti mai pagati, sotto accusa la ditta che voleva scalare Villa Pini. E poi la fotonotizia che riguarda i funerali del professor Magnacca Sambuceto, rose rosse e lacrime per l'addio al primario. Le cronache, i precari di attiva traditi dalla politica, lo sfogo degli ex interinali. Poi a Francavilla, scegli tu il sindaco, c'è lo sprint per quanto riguarda Forza Italia di Franco Moroni. E poi lo sport, la padula, attaccante del Pescara, capocannoniere del campionato di Serie B. Un mix tra Giampaolo e Immobile. Dunque bomber a confronto. Lasciamo la prima pagina del Centro edizione di Pescara. Andiamo a vedere, lo faremo tra qualche secondo, l'edizione di Chieti, Lanciano, Vasto. Poi vedremo anche le altre due edizioni, quella di Teramo e quella di L'Aquila, Avezzano, Sulmona. Vediamo l'edizione di Chieti del Centro. Il titolo lo vedremo tra qualche secondo. Tra l'altro è lo stesso perché la questione Villa Pini ovviamente riguarda anche e soprattutto la provincia di Chieti, essendo la clinica proprio nel territorio della provincia teatina. Ed ecco qui il titolo, lo stesso dell'edizione di Pescara, De Nicola ora scatta il fallimento. Altri titoli invece che riguardano proprio Chieti e provincia. Teatro, terme e tempo vietati e abbandonati. Chieti, così muore la cultura fotoeloquente dello stato in cui si trova proprio la zona del teatro. Poi nelle cronache siamo a Chieti, in città quattro nuovi centri commerciali, mazzata sui piccoli negozi. Poi a Lanciano muore a 18 anni, nessun colpevole, travolto mentre va in moto. E poi a Vasto scoperte irregolarità sulla nave della morte, marinaio ucciso dal gas. Ricorderete qualche giorno fa questa tragedia sulla nave russa con la morte di un marinaio a causa delle esalazioni tossiche provenienti da una cisterna che il marinaio stava pulendo. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro. Andiamo a vedere tra qualche secondo l'edizione di Teramo. E poi, come detto, chiuderemo con quella di L'Aquila, Avezzano e Surmona. L'edizione di Teramo del quotidiano Il Centro si apre con una notizia tragica. Carabiniere si schianta e muore, incidente in Slovenia. Era di Castel Castagna ed era in servizio a Gorizia. Questo giovane carabiniere morto in un incidente stradale. Poi si parla di basket, la fotonotizia. Il procuratore Giuliese si racconta, Ciafardoni, io Bryant e il mio trullo, da applausi. Dunque questo revival di Ernesto Ciafardoni. E poi le cronache. Siamo a Teramo. La Teramo Ambiente al Comune. Paga subito i debiti. Chiesti 2 milioni. Poi la variante alla strada provinciale 259. Riprendono i lavori. Siamo nel territorio di Alba Adriatica. Si ricomincia a lavorare nonostante il contenzioso. E poi lo Sport. Decisione rinviata sullo sconto al Teramo. Parliamo di calcio della Combin di Savona. Teramo che si aspetta una riduzione della penalizzazione di 6 punti. Chiudiamo con la prima pagina del centro. Edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Poi passeremo al messaggero per dare uno sguardo anche ai titoli di cronaca nazionale. Poi come sempre alle 7.20 ci sarà il meteo. E poi la seconda parte dedicata alla cronaca delle nostre province. Allora edizione dell'Aquila del centro. Comune Gesuiti in lite per Lici. L'Aquila ricorso in commissione tributaria per Palazzo Spaventa. E poi le spine della riforma. Si parla di Camere di Commercio. Il nodo delle fusioni. E a parlare è Lorenzo Santilli. Presidente di Union Camere Abruzzo. E poi all'Aquila sotto servizi. Scontro tutto interno al Partito Democratico. Accelano di scarica sequestrata chiesta la bonifica. E poi Sulmona Ranalli è raggiunta. Faccio di testa mia, dice il sindaco. Lasciamo dunque l'edizione del centro di L'Aquila, Avezzano. E Sulmona passiamo a vedere il messaggero. Ecco qui la prima pagina del quotidiano di Roma. Vedete il titolo principale. Riforma banche, rinvio rimborsi. Varato il decreto sui crediti deteriorati. Sconto fiscale sugli immobili presi in pegno. E poi andando avanti, più in basso, Unioni Civili. C'è un primo sì, la libertà di voto. Spacca il Partito Democratico. E poi vedete la fotonotizia che riguarda le primarie negli Stati Uniti. Disastro Ilari, riscossa Trump alle primarie. Il vento antipartiti. E poi infine, stretta del Campidoglio, scandalo affitti. A Roma, via agli sfratti scoperti. Oltre 25 mila inquilini morosi. Possiamo andare a vedere le pagine interne. Pagina 2, banche, arrivano sconti fiscali sugli immobili. E tra poco vedremo, ecco qui la pagina, slittano i rimborsi. Si parla della questione banche. Poi, più in basso, Indennizi, in vista a due provvedimenti che riguardano proprio la questione banche. Pagina 3, faro della BCE sulla Deutsche Bank. Fanno paura i suoi titoli tossici. Vedete il titolo di apertura della pagina 3, che parla sempre della questione banche. Dunque, più in basso, si parla invece di bond spazzatura. Ecco gli istituti tedeschi e svizzeri più pericolosi. Vedete, c'è la cartina con questi titoli, questi istituti tedeschi e svizzeri, che sarebbero i più pericolosi. Andiamo avanti con un'altra pagina, sempre dal messaggero. Eccola qui. Si parla sempre di economia, sempre di borsa. La Fed frena sul rialzo dei tassi. Borse, ok. Milano guadagna il 5%. Dopo tante giornate di chiusura in negativo, ieri è stata una giornata finalmente, il caso di dire, positiva per la Borsa di Milano, che ha guadagnato il 5%. Il presidente della Banca Centrale, Yellen, ammette la crescita, è stata deludente e rallentata molto fino al 2015. Proseguiamo con un'altra pagina del quotidiano Il Messaggero. Siamo alla politica, si parla di unioni civili al Senato, primo ostacolo superato, partito democratico diviso sulla libertà di voto. Respinta 195 a 101 la richiesta di archiviare il disegno di legge, Grasso non concede lo scrutinio segreto, si scatena la bagarre. Andiamo più in basso, ma sui diritti la maionese impazzisce tra catto grillismi e soccorso verdiano. Come detto, ci sono state delle polemiche. E poi vedete questa foto che è proprio a centro pagina, che riguarda la regione Liguria, bufera sull'eghista shock, che avrebbe detto, in caso di usare il condizionale, avessi un figlio gay. Lo brucerei, poi ha ritrattato. Andiamo avanti con la prossima pagina. Ultimo compromesso, adozioni solo per sanare i casi già aperti. E dunque, nonostante l'ok dell'aula, in sofferenza non solo i cattolici, ma anche la sinistra, pesano anche i dubbi di Napolitano sulla costituzionalità e sulla lacerazione nel Paese e la tentazione di rinviare lo strep shield, vera e propria, a dopo le amministrative. Più in basso si parla di Marco e Simone, c'è questa storia, noi sposati e con due gemelli, ma per la legge i nostri figli non sono fratelli. C'è questa testimonianza, questa storia raccolta dal messaggero. Andiamo avanti, andiamo a vedere la prossima pagina che riguarda ancora la politica. Parlamento al lavoro due giorni e mezzo a settimana. L'ennesimo rinvio sulle unioni civili apre il caso degli orari di senatori e deputati in aula da martedì pomeriggio a giovedì, comunque mai oltre le 20 ore settimanali. E dunque c'è in un certo senso una critica al lavoro dei parlamentari che lavorerebbero poche ore a settimana, comunque non oltre le 20 ore a settimana. E poi sprecopoli Lombard, il PM per Bossi Junior solo un anno, la richiesta delle attenuanti era mal costume diffuso. E siamo a pagina 9, caos centrodestra, torna l'ipotesi primarie. Campidoglio, Berlusconi, gelala dalla chiesa e le rinuncia a scontro con la Meloni. Il leader Lombard diserta il vertice, l'ex premier, preme per Bertolaso, ma forse Italia vuole l'ingegnere romano. Lega e Fratelli d'Italia, Silvio, decidano i cittadini. Dunque caos centrodestra per vedere quali saranno i candidati, quale sarà il candidato a Roma. E poi c'è l'intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, che dice Roma, gazebo unica via d'uscita, Marchini alternativo a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. E poi in basso, riforme, comitati del no per la svolta presidenzialista, l'appello di Fini alla tavola rotonda di Libera Destra, da Brunetta a Consolo, a Baldassare. Dunque torna in campo l'ex leader di Alleanza Nazionale, nonché ex presidente della Camera, torna in campo. Fini. Andiamo avanti. Siamo a pagina 10. Si parla di migranti. L'Unione Europea all'Italia, bene i nuovi hotspot, ma ritardo sui rimpatri. Il richiamo di Avram Populos sui centri per migranti, troppo pochi, 420 posti. Renzi dice, Bruxelles è come l'orchestra, che suonava il Titanic. Mattarella, importante l'aiuto, dice il presidente della Repubblica, della Nato, forse ora i partner europei capiranno la visita al Museo dell'Immigrazione di New York. Sono fiducioso che avremo un seggio al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. E poi in basso, vedete, intesa Renzi al Badi, sciolti nodi per i bersaglieri in Iraq. Saranno 500 e partiranno in estate. Saranno affiancati da truppe irachene, con copertura dell'area americana. Andiamo ancora avanti, si parla delle elezioni. Vedete, negli Stati Uniti, nel New Hampshire, batosta per Hillary Clinton, la corsa alla Casa Bianca. Sanders travince su Hillary, grazie anche ai consensi degli indipendenti. Vedete la proporzione 60-32, dunque una vera e propria batosta per la moglie dell'ex presidente Bill Clinton. Poi Trump lascia indietro di almeno 20 punti gli avversari. Il primo inseguitore, Kasich, un voto anti-establishment. Vedete nella foto i vari candidati in blu e in rosso. Vedete da una parte Bernie Sanders che ha ottenuto il 60%, dall'altra Donald Trump per quanto riguarda i repubblicani, con il 35,1% e i repubblicani ancora in cerca di un rivale per Trump. Trump fino a questo momento dunque resta favorito. E poi l'intervista James Roosevelt che dice se Blomberg si candida danneggia i conservatori. E dunque ci sono anche opinioni diverse, ma la strada per il nuovo presidente degli Stati Uniti è ancora lunga. Andiamo avanti con un'altra pagina del messaggero. Ecco qui si parla della morte dello studente italiano al Cairo. Giulio si indaga sull'ultima riunione, indagini italiane sugli incontri fatti da Giulio Reggeni nei giorni che precedettero la sua morte, sospetti su un'assemblea sindacale. C'erano forti tensioni e forse degli infiltrati. Qualcuno può aver notato, il ricercatore ha fatto il suo nome alla polizia. Dunque le indagini proseguono, indagini della polizia italiana e di quella egiziana. Andiamo in basso, si parla invece di cronaca nazionale, mafia, Maxi Blitz a Catania, 109 arresti, due donne al vertice del clan Laudani, operazione dei carabinieri contro una holding del crimine, il vecchio boss, mio nipote un pentito, no, cornuto. Questa è la dichiarazione che avrebbe fatto il boss. Proseguiamo ancora con le pagine del messaggero. Siamo a Roma alla vicenda dello scandalo affitti. Partono i primi sfratti, la stretta del Campidoglio sugli immobili comunali a prezzi irrisori, spedendo già lettere ai finti poveri che le occupano. E poi scoperte oltre 25 mila inquilini morosi nelle case Ater per un buco di 26 milioni di euro l'anno, una nuova task force. E dunque prosegue questo scandalo affitti a Roma nella capitale. Proseguiamo ancora, siamo alla cronaca, uno studente su quattro, un alfabete in matematica, cronaca ancora italiana, si parla di scuola, i nuovi dati dell'Ocse, in Europa siamo tra i peggiori, ma in dieci anni siamo migliorati. Italia sotto la media, anche nella lettura, in grossa difficoltà, un ragazzo su cinque. Dunque tradizionalmente gli studenti italiani non sono molto bravi in matematica. E poi truffa da 30 milioni, arrestato un monsignore. Questa inchiesta che arriva, in cui si parla in questa pagina di cronaca dal messaggero, raggirata a 300 persone, preso mentre stava partendo per le Canarie, villa del 400 e sito archeologico tra i beni sequestrati. Vedete la foto di Don Patrizio, benvenuti. Siamo alle pagine dell'economia, partiamo dalla prima pagina, si parla dell'ILVA, 29 manifestazioni di interesse tra i pretendenti, anche il colosso straniero, Arcecolor, Mittal, molti piccoli interessati, soltanto a specifici singoli asset. Andiamo ancora avanti, fondo volontario di salvataggio, banche caute sul rafforzamento, si parla della questione banche. E dunque in fondo, in fondo alla pagina, banco BPM, avanti con le nozze, la BCE vuole piccoli ritocchi. Dunque si parla ancora di fusioni tra banche in questo caso. Andiamo avanti con un'altra pagina di economia, cementir, utile, antimposte, in crescita a 102 milioni, e poi RCS, l'aumento di capitale nel mirino delle banche. E poi infine l'ultima pagina che riguarda l'economia, sanità, un tesoretto da un miliardo e mezzo. Il fondo potrebbe essere utilizzato per sbloccare il turnover per i farmaci innovativi di alto prezzo. Il ministro Lorenzin, cifre ancora non ufficiali, sono destinate al 2017, collegate alla risalita del PIL. Lasciamo le pagine del messaggero, torniamo al centro, in questo caso per andare a vedere le pagine di cronaca nazionale del centro. Ancora un secondo e vedremo proprio le pagine che riguardano il quotidiano d'Abruzzo, le pagine di cronaca nazionale. Poi tra qualche istante passeremo ovviamente al meteo con il nostro Giovanni De Palma. Allora, unioni civili, slitta martedì il voto sugli articoli, superato il primo ostacolo al Senato, negato lo scrutinio segreto alla mozione Calderoli, PD diviso sulla libertà di coscienza, e poi canguri ed agguati a colpi di regolamento, lo scontro frontale scalda l'aria di Palazzo Madama. Ci sono anche CNN e BBC e si rivede Ghedini. Proseguiamo il nodo del credito. Nel decreto banche niente rimborsi, forse anche le norme, per agevolare le uscite anticipate dei dipendenti degli istituti che dovrebbero fondersi. E poi il ministro della Sanità, Lorenzin, nel 2017, tesoretto da un miliardo e mezzo per la sanità. Proseguiamo. Siamo alle elezioni americane, verso le presidenziali, corsa la Casa Bianca, l'abbiamo visto anche dal messaggero Sanders e Trump in testa, all'esito delle consultazioni nel New Hampshire, consacra i due candidati rivali dietro la Clinton, ma la forza del paperone conservatore potrebbe farla vincere. E proseguiamo con la vicenda dello studente italiano ucciso in Egitto al Cairo. La svolta è nell'email. La procura del Cairo vuole da Roma il PC del ricercatore ucciso. Scontro tra PM. Gli attivisti, chi sta indagando sul delitto, fu condannato nel 2003 per tortura. E poi si parla di questa epidemia di Zika in alcuni paesi del Sud America. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il Brasile permetta di abortire. Proseguiamo. Ancora un'altra pagina che riguarda l'emergenza in Europa. Parliamo di migranti. Perso troppo tempo. L'Unione Europea bacchetta ai 28 paesi. Ricollocamenti fermi. Roma acceleri sui rimpatri. Ultimatum ad Atene. Siamo arrivati alle pagine d'Abruzzo del centro, ma sono le 7.20. dobbiamo parlare di meteo e come sempre lo facciamo con il nostro meteorologo Giovanni De Palma che vado a salutare. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, dopo qualche giornata di bel tempo, di sole, temperature direi oltremodo miti, direi quasi calde per il periodo, questa mattina è arrivata la pioggia e c'è stato anche un abbassamento delle temperature. Cosa ci attende per le prossime ore? Eh sì, Paolo, detto bene perché la nostra penisola continua ad essere sotto la scia, risultare sotto la scia di perturbazioni atlantiche che si susseguono una dopo l'altra e favoriscono delle alternanze di fasi con cielo sereno, poco nuvoloso, fasi caratterizzate da annuvolamenti e precipitazioni. I forti venti che nei giorni scorsi hanno favorito anche un deciso aumento delle temperature si sono attenuati e sono arrivate masse d'aria più fredda di origine nord-atlantica che in queste ore sta dando luogo a delle precipitazioni, anche un abbassamento delle temperature come giustamente detto tu e tant'è che nelle prossime ore ci saranno ancora delle nevicate, delle precipitazioni, carattere nevoso sulla Marfica, nell'Aquilano di sopra dei 5-600 metri. Così come sono previste delle precipitazioni anche sul versante orientale nel corso della mattinata, poi la tendenza è verso un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche, ci saranno delle schierite nel primo pomeriggio ma complice proprio il soleggiamento, non si escludono poi nuove formazioni nuvolose, questo in perfetto stile primaverile oserei dire, con possibili nuovi rovesci soprattutto nel tardo pomeriggio. Poi il tempo tenderà temporaneamente a migliorare, ci saranno ampiescherite un po' su tutto il territorio regionale ma come si vince anche osservando le immagini dal satellite, un nuovo sistema nuvoloso si avvicina alla nostra regione e nella giornata di venerdì favorirà un nuovo peggioramento a partire dalla Marfica e dall'Aquilano, in particolar modo tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio. Poi ce ne sarà un'altra palo di perturbazione più intensa e attesa soprattutto dalla giornata di sabato con un deciso rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, quindi torna il Garbino, le temperature aumenteranno ma questa perturbazione segnerà l'inizio di una probabile intensa fase di maltempo che con tutta probabilità interesserà e riguarderà anche la nostra regione perché questa perturbazione favorirà la formazione, si isolerà proprio sulle Baleare, sui nostri mari occidentali e favorirà la formazione di una vasta circolazione depressionaria alla quale sarà associata una fase di maltempo con correnti meridionali che favoriranno dapprima un deciso aumento delle temperature ma l'aria proveniente da Biccirocco, proveniente dai quadranti meridionali, porterà con sé anche tanta umidità e quindi tanta nuvolosità e di conseguenza le precipitazioni che risulteranno diffuse e probabilmente persistenti più frequenti sul settore occidentale nei primi giorni della prossima settimana. Comunque si tratta questa di una tendenza da analizzare e seguire dettagliatamente nel corso dei prossimi giorni. Giovanni, prima di salutarci una breve pillola da quello che ci hai detto, dunque correnti atlantiche, correnti meridionali quindi almeno per il momento, almeno per i prossimi giorni sono scongiurate perturbazioni diciamo di carattere freddo il grande freddo che quest'anno abbiamo conosciuto solo per qualche giorno non arriverà nella nostra regione, è così? Assolutamente no, stiamo attraversando una fase metrologica con caratteristiche tipiche dell'autunno, caratteristiche autunnali queste non certo del mese di febbraio, ma non è che non fa freddo qui in Italia o in Abruzzo, non fa freddo su gran parte del continente europeo mentre dall'altra parte dell'oceano, quindi sugli Stati Uniti è in atto una ipodrosa e massiccia di scesa di aria gelida che si spingerà fino quasi verso la Florida, quindi questa è una situazione comunque classica per gli Stati Uniti ma sul continente europeo Paolo non c'è freddo, non c'è il freddo quello intenso, quello che caratterizza proprio il mese di febbraio e sarà così anche nei prossimi giorni, quindi il freddo per il momento non arriva ma arriveranno le piogge autunnali passami questo termine Paolo E sì, dunque siamo in pieno inverno ma le temperature sono quelle autunnali e ce ne stiamo accorgendo ormai da diversi giorni, diverse settimane Io ringrazio Giovanni De Palma, grazie, buon lavoro, appuntamento con te ovviamente domani sempre alle 7.20 nel corso di Mattino 6 Grazie e buona giornata Grazie Paolo, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 Ringraziamo Giovanni De Palma, ma per restare sempre informati c'è il sito internet www.abruzzometeo.org con informazioni puntuali in tempo reale, sempre aggiornate sulle evoluzioni meteo e poi c'è la pagina Facebook del nostro meteorologo che è uno strumento utile in questo caso anche per interagire, per comunicare con Giovanni De Palma e sempre restare aggiornati su quelle che sono le previsioni del tempo che riguardano la nostra regione Noi torniamo ai nostri quotidiani, andiamo, torniamo al messaggero per vedere le pagine d'Abruzzo dunque l'inserto Abruzzo del quotidiano di Roma partiamo dalla prima pagina del messaggero si parla del no all'aumento del bollo verrebbe utilizzato per finanziare le città della cultura insorgono i 5 stelle, la proposta di legge, prima firmataria alla sclocco approderà oggi in commissione e poi vedete la fotonotizia, il panorama scomparso si parla del mare di Pescara e il maltempo e non solo, sta creando problemi al litorale pescarese poi il mare vedete finito in gabbia anche per questioni che riguardano le costruzioni che potrebbero nascere proprio sul litorale dunque problemi climatici, meteorologici ma anche di strutture mobili che potrebbero essere costruite e messe proprio sul litorale per la stagione estiva e poi assenteismo, la corte dei conti condanna il primario oculista siamo a Pescara, possiamo passare direttamente alla seconda pagina di cronaca regionale del messaggero si torna a parlare dell'aumento del bollo auto per finanziare le città della cultura ci sono delle polemiche poi si parla invece di disabili psichici salviamo le borse lavoro questa è la proposta dell'esponente di rifondazione comunista Maurizio Cerbo e poi l'apelino parlamentare di Forza Italia attacca il PD e il piano toto per l'autostrada a 25 torniamo al centro dopo aver visto le pagine di cronaca regionale anche dal centro guardiamo insieme, leggiamo i titoli che riguardano la cronaca regionale riforma delle camere di commercio questa fusione si farà ma indebolirà le imprese il presidente di Union Camere Abruzzo dell'Aquila si adegua senza entusiasmo salterà l'intera rete di sussidiarietà e solidarietà per tagli irrisori e demagogici dunque il presidente di Union Camere Lorenzo Santilli dice che questa riforma potrebbe indebolire le imprese poi in basso scandalo fira nessuno sconto a Masciarelli non regge la difesa in appello l'ex presidente condannato a risarcire un milione alla regione andiamo ancora avanti D'Alfonso è in risalita ma non è più super regatti ispira fiducia i risultati del sondaggio effettuato dalla società molisana Digis l'oglio è il primo fra gli assessori di primio leader dei sindaci allora andiamo a vedere in questo specchietto brevemente i voti che hanno dato gli abruzzesi vedete il sindaco dell'Aquila Cialente positivo per il 56% negativo per il 43% Brucchi 45,1% di voti positivi 54,9% negativi per il sindaco di Pescara un 34,1% di segno positivo e un 65,9% di segno negativo infine Chieti positivo di primio per il 56% negativo per il 47,9% ancora due titoli di cronaca regionale aeroporto Mattoscio della Saga salta la commissione di vigilanza Febbo di Forza Italia il Movimento 5 Stelle lo attaccano e poi il Bollo Autorincara per la Cultura abbiamo visto anche dal messaggero ci sono polemiche pettinari del Movimento 5 Stelle dice Abruzzesi vessati e siamo dunque giunti alla nostra consietta pausa di metà rassegna noi ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio per la seconda parte daremo uno sguardo alle pagine delle cronache provinciali dei nostri quotidiani Centro, Messaggero e la Città seconda parte di mattino 6 siamo al centro partiamo dalla cronaca di Pescara poi seguiremo con le cronache delle altre province prima pagina della cronaca di Pescara del quotidiano Il Centro fallita la ditta De Nicola nata per scalare Villapini debiti mai pagati sotto accusa uno dei tre grandi creditori della Carichietti fatture false per i prestiti sparirono 260 mila euro il meccanismo ideato da De Nicola svelato da un'inchiesta con 23 indagati così due ditte in dissesto hanno ottenuto soldi dalla banca mai restituiti poi in basso Mascia condannato per una consulenza Pescara Città dello Sport l'ex sindaco dovrà risarcire 15 mila euro farò appello è stato un successo ha detto Mascia andiamo avanti le voci della vertenza i precari di Attiva la politica ci promise quei posti di lavoro lo sfogo degli ex interinali bocciati al concorso ci hanno perfino detto che cosa fare per aumentare il punteggio e poi parla il sindaco di Pescara Marco Alessandrini che dice non gioco sui bisogni della gente con la nostra soluzione nuovo bando bando scusate entro il 2016 e lunedì prossimo ci sarà proprio a Pescara un consiglio comunale straordinario per parlare della vicenda degli ex lavoratori interinali di Attiva e in basso si parla ancora di questa vicenda parla il direttore generale che dice concorso a norma di legge il direttore generale non abbiamo fatto promessi ma vogliamo recuperarli proseguiamo funerale a San Buceto mille persone lacrime per l'addio al primario rose rosse sulla bala di Francesco Magnac il professore dell'ospedale di Chieti stroncato da un infarto a 49 anni e poi manifestazione dei disabili psichici in 15 protestano davanti all'ospedale contro la cancellazione delle borse lavoro e poi a San Giovanni Tiatino botte dopo lo scontro tra auto frattura al viso per un 24enne andiamo ancora avanti siamo sempre alla cronaca di Pescara il duplice omicidio di via Tibullo madre e figlio uccisi in casa le salme riportate in Polonia e poi questa storia che arriva sempre da Pescara al volante a 90 anni toglietimi tutto ma non la patente tutti i trucchi dei pensionati per superare i controlli medici c'è chi fa le flessioni e chi promette di guidare solo per 3 km e poi etilometro lezione di vigili in un locale di Pescara in via Piave poi nuova associazione per i cittadini in via del circuito nasce il cuore nazionale Abruzzo proseguiamo stage negli studi stage scusate negli studi professionali per preparare i ragazzi al lavoro università intervista a Michele Rea direttore del dipartimento di economia di Viale Pindaro voglio creare un laboratorio di confronto con Confindustria commercialisti e camera di commercio e poi domani e sabato workshop sul riciclo al Misticoni Bellisario di Pescara e poi ancora da Pescara l'Arcadia Pescara semina nuovi successi e odontotecnici festa nel nome di Giacomo sabato alla Di Marzio Michetti proseguiamo siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara in questo caso Francavilla si parla di elezioni amministrative di Renzo candidato dalla sinistra contro Luciani seconda designazione ufficiale in vista del voto Franco Moroni svetta nel sondaggio lanciato dal centro San Giovanni Teadino fondi pubblici per la chiesa di Botta destinati due milioni delle aree degradate al complesso di San Rocco siamo a Montesilvano asta pubblica dei beni eco M a 370 mila euro scatta il ribarso del 20% rispetto al primo incanto che è andato deserto il ricavato sarà ripartito fra i tre soci e poi Girosante difende Cantagallo non vedo la città migliorata la polemica sul partito democratico e poi incontri di scrittura creativa in libreria on the road ospita dal 20 febbraio nei fine settimana quattro corsi per gli appassionati di viaggi proseguiamo siamo sempre nell'area metropolitana di Pescara sempre a Montesilvano in questo caso per parlare di un fatto di cronaca avvenuto ieri proprio nella cittadina del Pescarese albero si abbatte su un'auto in via Vestina vedete la foto ferita una ragazza fortunatamente in condizioni non gravi e poi Baccaro ogni giorno transitano in città circa 40 mila veicoli l'assessore all'ambiente annuncia uno studio complessivo sui flussi di traffico per migliorare la viabilità a città Sant'Angelo consumatori due sezioni di contribuenti Abruzzo ancora in basso di nuovo Montesilvano vittime delle foibe l'omaggio al monumento di piazza Molle e poi Spoltore scuola dell'infanzia si inaugura stamane a Rita Montalcini infine Spoltore un calendario unico per gli eventi stagione estiva 2016 il comune convoca le associazioni cittadine ma io direi di tornare alla commemorazione delle vittime delle foibe perché ieri un po' in tutte le città d'Abruzzo in tutti i capoluoghi si sono tenute delle cerimonie proprio per ricordare questa tragedia noi abbiamo seguito con le nostre telecamere la cerimonia che si è tenuta all'Aquila possiamo andare a vedere il servizio un capitolo scuro della nostra storia anche a causa del cinismo della politica un oblio della memoria collettiva durato troppo a lungo così dopo l'inno nazionale il presidente del consiglio regionale Giuseppe di Pangrazio ha esordito in un emiciclo grimito di studenti nel giorno del ricordo solennità civile pensata per mantenere viva la memoria degli ecidi consumati ai danni della popolazione italiana della Dalmazza e della Venezia Giulia durante la seconda guerra mondiale in particolare tra il 43 e il 45 nell'immediato dopoguerra ad opera dei partigiani di Tito ricordati come massacro delle foi termine che indica i grandi inghiotoi tipici della regione carsica dell'Istria dove i corpi delle vittime furono occultati una tragedia come quella dell'olocausto che non va dimenticata perché nessuna giustificazione può avere la violenza e i morti innocenti non hanno né patria né colori è importante ricordare tutte quelle tragedie che sono accadute diciamo nella nostra società durante periodi più bui del secolo scorso questo percorso che stanno facendo i ragazzi per non dimenticare affinché ciò non accada più è un percorso di sei lezioni questa è la penultima lezione che si effettua qui in consiglio regionale per poi iniziare il cammino verso quei luoghi delle foibe e della scioà affinché i ragazzi possano capire affinché si possa migliorare la nostra società questo viene fatto attraverso la conoscenza la scienza con professori universitari con storici proprio perché la conoscenza diventa appunto fondamentale per migliorare il nostro essere umani siamo alle pagine del centro dalla provincia di Pescara siamo a Penne Vestina Gas ora si tratta con una società milanese la municipalizzata apre uno sportello poi Popoli scuola dell'infanzia via i lavori poi l'ex sindaco di Popoli Castricone dice ho lasciato un comune ricco sempre tornando invece a Penne gioca 5 euro ne porta a casa 76 mila vincita al super Enalotto in file Torre dei Passeri l'istituto commerciale presenta l'indirizzo turistico andiamo avanti siamo alla pagina di Chieti del centro nuovi centri commerciali il numero sale a 4 dopo quelli in via Masci e via Pescara ne spuntano altri due sul colle allo scalo il prossimo apre tra qualche giorno un altro sorgerà accanto all'ex ospedale San Camillo e poi addio a Dicenzo storico negoziante di via Arniense in pieno centro a Chieti e poi ladri di auto in azione a Santa Maria rubata alla Rev4 dell'ingegnere Merlino e poi senza stipendio da dicembre nuovo appello al prefetto case di riposo i dipendenti tornano in stato di agitazione siamo alla pagina dell'Aquila del centro si parla di ricostruzione si infiamma il dibattito sotto servizi dietro lo scontro due città due diverse visioni di città la battaglia è tutta dentro il PD Benedetti attacca di Benedetto possibile candidato sindaco nel 2017 e poi la linea verde del partito si sgancia dal mito del dovera e com'era immagina un futuro diverso e poi andiamo a Celano nella Marsica perché è giallo per una donna di Celano che è scomparsa a Roma si parla di Laura Dovidio che da ieri mattina non si trova di questo caso ne ha parlato ieri sera anche la trasmissione di Rai 3 chi l'ha visto e c'è grande apprezzione per la scomparsa della 45enne originaria di Celano tornando all'Aquila comune padri gesuiti in causa per l'Ici l'Aquila lente ricorre ai giudici per il mancato pagamento dell'imposta su un palazzo in centro e siamo alla cronaca di Teramo del centro il tragico incidente che abbiamo visto anche nell'apertura dell'edizione di Teramo del centro Carabiniere Teramano muore in Slovenia Fabrizio Spagnoli di Castel Castagna era in servizio al reggimento di Gorizia l'auto che guidava è finita fuori strada e poi in basso Maxi Truffa all'Unione Europea via al processo a Oliveri fatture false per avere fondi con l'ex vicepresidente del Pescara ci sono altri 12 imputati lasciamo il centro perché siamo arrivati alle pagine dello sport andiamo a vedere il messaggero in questo caso partiamo sempre dalle pagine provinciali della cronaca di Pescara i mille passi tra il mare in gabbia 40 stabilimenti e 100 capanni sequestrano il panorama dunque problemi di visibilità si parla del piano spiaggia ma come dicevamo prima c'è stato un problema nei mesi scorsi degli anni scorsi anche per la spiaggia che è stata mangiata proprio dall'erosione e inquinamento scontro sui dati tra partiti e associazioni e dunque si parla di inquinamento non solo inquinamento del mare e dunque tolte le spiagge libere si cammina in mezzo come si legge anche in quest'articolo a alcuni ostacoli e poi in basso condannato il primario assenteista per la corte dei conti l'oculista Marullo deve pagare 9 mila euro andiamo avanti con la prossima pagina della cronaca di Pescara le lacrime degli amici per l'ultimo viaggio di Arca e la mamma le salme delle vittime del dublice omicidio di Pescara e di Via Tibulo sono partite per la Polonia e poi si schiaccia una mano nella macchina impastatrice grave un cuoco è accaduto ieri a Pescara e poi parti rischio ingorgo vedete in basso all'ospedale di Pescara siamo alla pagina dell'area metropolitana di Pescara l'albero crolla sull'auto viva per miracole è accaduto a Montesilvano sempre a Montesilvano mezzo chilo di droga in cucina arrestato e poi due appuntamenti per non dimenticare si parla della commemorazione delle foibe poi occhio alla sosta in zona disco dopo le 20 la multa non vale infine a Penne Bar Belvedere dove la fortuna è di casa vinti 76 mila euro al super nell'otto andiamo avanti con le pagine della cronaca provinciale del messaggero siamo all'Aquila sullo stop ai sottoservizi il PD blocca Benedetti Albano e Palumbo significerebbe oltretutto rinunciare ai servizi digitali il presidente del consiglio comunale ora invoca controlli legali e tecnici e poi manager Asle reparti in furia la polemica si parla di sanità invece l'indagine stalking a noto avvocato ci sono dei prosciolti infine la morte di Di Ramio scagionato l'indagato e poi furbetto della legge 104 condannato un maresciallo dalla Corte dei Conti possiamo passare all'altra pagina della cronaca dell'Aquila un giardino al posto del distretto militare il progetto del provveditorato alle opere pubbliche prevede un'area verde al lato della basilica di San Bernardino e poi stress da sisma nati meno maschi all'Aquila e poi in basso giorno del ricordo in consiglio regionale di Pangrazio Foibe capitolo oscuro abbiamo visto il servizio infine a rischia in autunno i lavori per la nuova scuola andiamo ancora avanti e siamo alla pagina di Avezzano sul Mona maxi discarica esplode il caso politico iniziati e sospesi carotaggi dell'arte a causa del maltempo per scoprire la composizione del materiale interrato noi sulla vicenda della discarica di Celano abbiamo ascoltato ieri Renato Di Nicola esponente del forum abruzzese dell'acqua proprio per sentire qual è il parere delle associazioni ambientaliste su questa nuova scoperta vediamo il servizio Di Nicola la notizia di poche ore fa la scoperta di questa discarica a Celano però non è stata una sorpresa in assoluto no disgraziatamente questo Abruzzo ci dà ogni giorno delle sorprese purtroppo negative qui stiamo parlando di una discarica che è grande come 50 campi di calcio vicino all'autostrada nella zona di Celano e questa però è una discarica di cui aveva parlato Angelo Venti già nel 2009 c'era stato già un servizio tv nel 2015 allora noi vorremmo dire a tutti i cittadini che quando un cittadino fa un esposto o dichiara che c'è qualcosa che non va le amministrazioni hanno tutte le possibilità di attivarsi c'è una legge ben precisa che permette a comuni province regioni di intervenire concretamente non c'è bisogno della magistratura e delle forze dell'ordine per obbligare degli amministratori che dovrebbero fare il loro mestiere a fare quello che devono fare quindi purtroppo è un guaio ma è un guaio anche per un'altra ragione perché vicino all'autostrada poi c'è anche bus si un po' più verso Pescara ed è terribile un'altra discarica ancora e vicino a questa autostrada si vuole fare una grande opera si vuole bucare la montagna con riserve d'acqua in pericolo per un investimento di 5 miliardi mentre abbiamo ancora delle discariche pericolosissime che possono danneggiare la salute dei cittadini è veramente incredibile noi non sappiamo più che cosa dobbiamo dire solo una sollevazione morale civile della popolazione può obbligare le istituzioni e tutti quelli che devono lavorare a fare il loro bestiere siamo alle pagine sempre della cronaca di Avezzano Sulmona del messaggero siamo a Sulmona Ranalli ora è davvero sull'orlo delle dimissioni dopo 13 giorni di febbrili trattative la nuova giunta ancora in alto mare e poi Celanese scomparsa a Roma si teme il suicidio abbiamo visto anche prima dalle pagine del centro e sempre tornando a Sulmona da 5 mesi senza stipendio i lavoratori addetti al servizio manutenzione occupano per protesta il municipio infine Avezzano lo scaldabagno in città lusso per pochi proseguiamo con le pagine della provincia provinciali del messaggero siamo a Chieti piscina l'incuria ha causato danni per oltre 10.000 euro e poi botte dopo una lite in strada due persone in ospedale per questa rissa andiamo verso centropagina l'iniziativa nuova Carichieti 10 succursali aperte sabato in occasione del mutuo dei e poi case di riposo i sindacati sul piede di guerra proseguiamo con la pagina di Lanciano Vasto Ortona Furbetto era a casa perché stava male la difesa dell'impiegato del reparto di oculistica all'attacco assunto come categoria protetta non c'è assenteismo e poi Ortona gruppi di parola per figli dei genitori separati a Lanciano parcheggio interrato in centro project financing e poi in basso andiamo a vedere i titoli che riguardano la zona soprattutto di Vasto e San Salvo raffiche di vento e incendi blackout in tanti centri nel Bastese e poi ancora Vasto maschere false compreso Anonymous sequestrati 32.000 esemplati taroccati due cinesi rinviati a giudizio questi numeri dell'operazione della guardia di finanze poi tornando in Frentani a Lanciano tutti distratti e la bimba esce dalla scuola fortunatamente non ci sono stati problemi proseguiamo ancora con le pagine del messaggero per chiudere con quelle di Teramo e Teramo provincia vedete la notizia che arriva dalla Slovenia Fabrizio il carabiniere modello muore a 33 anni Castel Castagna ha proclamato il lutto cittadino questo giovane morto in un incidente stradale poi indegno fare cassa sui soldi dei cittadini di Pasquale del PD il sindaco Brucchi dica che ha sbagliato si parla ovviamente di politica e poi stalker molestava coetanea sui social il processo e poi sopra il luogo del NAS nella media di via Pascoli infine in basso ispettori del lavoro nella sede della Teramo Ambiente e poi truffa l'Unione Europea l'udienza tutti in aula coinvolto anche il vicepresidente del Pescara Oliveri andiamo a vedere la pagina che riguarda Giulianova Roseto Val Vibrata partiamo da Giulianova violazione del diritto d'autore caso alla ASL sempre a Giulianova nuova caserma i soldi in arrivo dalla regione poi a Roseto the land of wine sarà a Montepagano tutto è nato dopo l'incontro tra Ginobile del Volo e Allen il sindaco Pavone nessuna strumentalizzazione politica in vista delle comunali non so se resterò chiudiamo le pagine di cronaca provinciale del messaggero prima di passare allo sport andiamo a vedere insieme invece le pagine che riguardano il quotidiano la città di Teramo in questo caso vediamo i titoli innanzitutto della prima pagina del quotidiano la città di Teramo per vedere il titolo principale eccolo qui il titolo che riguarda la cronaca rischia il repimento per errori armati di pistola irrompono nel giardino di una villa a Tortoreto spacciandosi per finanzieri e lo scambiano per albanese andiamo avanti pagina di Abruzzo gli abruzzesi e i politici monitor fissa i giudizi Luciano D'Alfonso al 43% di consenso per l'operato in regione Lolli il migliore in giunta Gatti il più apprezzato dall'opposizione nei quattro capoluoghi si salvano Cialente Di Primio appena eletto Di Primio appena eletto Maluccio Brucchi e Malissimo Alessandrini proseguiamo siamo chiedo scusa all'incidente mortale accaduto in Slovenia Carabiniere Teramano muore in Slovenia Fabrizio Spagnoli 33 anni martedì notte stava rientrando a Gorizia a bordo della sua golf quando è finito fuori strada siamo alla cronaca di Teramo si parla di commercio scatta la vendetta del carico scarico mercine arriva una nuova stretta su camion e furgoni in centro orari più stretti e carrelli per le consegne proseguiamo Ispettorato del lavoro alla Teramo Ambiente verifica sul personale nella sede di Via Delfico anche a causa dei livelli aumentati a quattro dipendenti Gagarin cerca una base al mercato coperto il collettivo politico sportivo chiede un bando pubblico per l'assegnazione di un locale in Piazza Verdi e poi occhi di gatto scomparsi da rifare appena installati siamo sempre a Teramo e poi si parla di sociale la fondazione pubblica i bandi per il terzo settore tempo scaduto per mandare a casa Brucchi se anche dovesse dimettersi per una crisi in maggioranza non c'è più margine per votare a giugno siamo la pagina della provincia sindaco antidemocratico durante il consiglio anche il PD si associa al coro di critiche per l'approvazione della via variante al piano regolatore siamo a Montorio al Vomano PD all'attacco quella di sabato sarà ricordata come una delle pagine più buie della nostra politica Isola del Gran Sasso iniziato il processo al commercialista infedele accusato di truffa e poi si parla di ambiente nell'articolo a fondo pagina patto tra provincia e parco nazionale Val Vibrata rischia di essere rapito per uno scambio di persone armati di pistola irrompono in una villa di Tortoleto spacciandosi per finanzieri che dovevano eseguire un arresto e poi politica anno zero inizia sotto zero flop alla prima di Colonnelli e poi a Nereto furgone in fiamme nella zona industriale siamo alla pagina di Giulianova Mosciano caserma da Alfonso Scavalca Mastromauro il governatore scrive a Sirimarco per annunciare il finanziamento con fondi FAS e poi la ASL usa il mio puscolo senza chiedere diritti Paolo De Cristofaro parte l'esa nel processo contro la responsabile del centro nutrizione e poi giudiziaria iniziato il processo per truffa ad Antonio Oliveri si parla di fondi europei Oliveri ex presidente del Pescara pagina di Roseto Pineto Adria e Silvi la ASL è stata la madre a sbagliare ospedale il manager neutralizza le polemiche dei politici sul parto inaspettato che c'è stato ad Atri e poi Enologia Montepagano diventa la sede del consorzio colline Terramane Roseto Palo abbattuto dalle raffiche di vento davanti alla scuola e sempre a Roseto la discoteca pomeridiana per i più giovani nasce l'idea di tre mamme sarà aperta due domeniche al mese dalle 16 alle 20 e poi Silvi ricostruire il Cursal come casa della cultura il progetto è chiuso in un cassetto da anni prevede anche il coinvolgimento di un imprenditore privato Pineto un convegno su opportunità di lavoro per gli under 35 economia Baltur lancia i ticket viaggio ad un euro la società di trasporti Terramana rivoluziona la politica tariffaria e vara nuove rotte in Italia e in Europa Piano Cave un regolamento arrivato con troppo ritardo infine lo sport per quanto riguarda il quotidiano la città di Teramo si parla ovviamente del Teramo Calcio Teramo per i punti c'è ancora da attendere decisione rinviata probabilmente la prossima settimana intanto oggi scatta l'impegno di Coppa Italia con il Siena siamo alle pagine dello sport del centro del messaggero partiamo dal messaggero Fornasier ora tocca a me il difensore del Pescara io e Zuparic siamo giovani ma dimostreremo che si può vincere anche senza Campagnaro noi abbiamo ascoltato ieri proprio il difensore della formazione Bianca Azzurra Michele Fornasier vediamo il servizio Michele Fornasier come si suol dire la domanda è d'obbligo questa difesa senza Campagnaro è una difesa più vulnerabile dà fastidio sentire sempre la solita domanda beh che è sempre la solita domanda un po' sì però di sicuro l'esperienza e il carisma che ha un giocatore come Campagnaro ci aiuta tanto Campagnaro con Fornasier e con Zuparic riesce a far giocare bene la difesa quando non c'è l'argentino c'è qualche problema perché? no più che problema per me anche l'ultima partita è stata una partita che abbiamo in cui abbiamo giocato bene però ovviamente ogni partita è penalizzata da episodi a favore e contro e a volte ci sono andati bene e questo giro non c'è andato male siamo tornati un po' a qualche mese fa emergenza in difesa non ci sarà Campagnaro non ci sarà neanche l'ultimo arrivato coda siete un po' contati lì dietro sì ma si sa che gli infortuni ci sono però noi come ho detto prima diamo sempre il massimo per fare il meglio una partita particolare ci sarà verrà rinnovato il gemellaggio con i tifosi però all'andata a proposito di Beffe quella del rigore subito al 95esimo grida ancora vendetta sì anche lì è stata una partita a sé però ormai è una partita dimenticata passata noi guardiamo questa che sta per venire venerdì e pensiamo questa noi andiamo tutte le partite andiamo a giocarcela per vincere poi il risultato è quello che è però noi ci mettiamo sempre il massimo impegno e la mentalità giusta per cercare di portare a casa il risultato dobbiamo pensare a fare punti e a vincere le partite poi il resto verrà da sé guarderemo la classifica a fine campionato dalla Pescara passiamo al Teramo sempre sulle pagine del messaggero Teramo la Corte Federale prende tempo rinviata la sentenza sulla penalizzazione andiamo ancora avanti con un'altra pagina del messaggero bisogno conferma Lanciano ci siamo dunque sarebbe alle battute finali la trattativa per la cessione della società rossonera dalla famiglia Maio all'imprenditore Campano e tra i nuovi possibili dirigenti del Lanciano c'è anche Vittorio Galigani che è stato anche direttore sportivo del Pescara Maragliuno deve scegliere il sostituto per Di Matteo che è squalificato in vista della gara con il Modena l'Aquila accelerata improvvisa cessione più vicina si punta a verificare la forza economica degli acquirenti dunque anche l'Aquila vicina alla cessione andiamo in basso si parla della gara di domenica prossima con la spalla Perrone prepara la sfida alla capolista andiamo ancora avanti con ovviamente in questo caso le pagine del centro dello sport per chiudere il nostro appuntamento di oggi con Mattino 6 la padula un mix di Giampi e Ciro il capocannoniere del Pescara unisce la tecnica del Giuliese Giampaolo e la forza di Immobile Cocco Spera in una maglia da titolare vedete in basso domani anticipo Biancazzurri in emergenza e Oddo fa allenamento a porte chiuse e poi si parla di Fornasiella rincorsa non è finita abbiamo ascoltato proprio pochi istanti fa il difensore del Pescara poi Lanciano bisogno oggi atteso in città per definire l'accordo con Imaio Maragliuro perde Zé Eduardo in vista della gara con il Modena poi inchiesta di Irti Soccer Teramo Figgici nuovo scontro in corte d'appello il diavolo chiede l'annullamento della penalizzazione la procura si oppone Biancorossi oggi a Siena per chi vince c'è il Foggia l'Aquila vende il 12,5% delle quote serie D niente gol su azione da un mese il Chieti si riaffida all'attaccante Dos Santos siamo alle ultime due pagine dello sport si parla di atletica leggera con il Terramano Angelossi tra i favoriti al podio ai tricolori allievi infine anzi c'è un titolo che riguarda il calcio a 5 in alto perché Danilo Iannascoli è al vertice del Pescara a calcio a 5 è stato infatti nominato nuovo presidente della società Bianca Azzurra infine il basket Lamar Cord del procuratore Giuliese Ciafardoni io Bryant e il mio trullo da applausi siamo dunque giunti al termine dell'appuntamento di oggi con la nostra rassegna stampa con Mattino 6 io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo la prima edizione del nostro telegiornale come sempre alle ore 14 grazie e buon proseguimento di giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti